Che scrivi? Situazione sentimentale. È il 2010 e il film The Social Network fa già intuire quanto Facebook cambierà la nostra vita a partire da quella amorosa, single, impegnati oppure è complicato. Da quei tempi in cui ci affacciavamo per la prima volta nelle vite degli altri sembra passato un secolo, il decennio dei social, diventati onnipresenti grazie al salto dal PC allo smartphone. Ecco la prima foto su Instagram. Oggi la piattaforma ne carica più di 100 milioni al giorno, mentre Facebook ha quasi 2 miliardi e mezzo di utenti, l'app più scaricata degli ultimi 10 anni. La missione dichiarata dei social era connettere l'umanità, un potenziale di trasformazione enorme, si pensi al loro ruolo nelle primavere arabe. Poi la scoperta. Avere il mondo intero in tasca ha un prezzo. Noi, i nostri dati personali. Chi siamo, dove andiamo e cosa facciamo? Dati da vendere alle aziende per creare pubblicità ipermirate, dati da scambiare come merce all'ingrosso. Il lato oscuro dei social. Le campagne di disinformazione russe nel voto americano del 2016. Lo scandalo Cambridge Analytica. Milioni di profili rastrellati illegalmente a fini di manipolazione. Troll, seminatori di odio, fake news. Eppure è ormai difficile pensare di fare a meno dei social. 20 anni fa non esistevano, oggi sono parte integrante della nostra vita.